Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della stagione primaverile 2023. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime della rete Ammiraglia, dove ci saranno delle modifiche sia nella fascia del pomeriggio che nell'ex esprime time. Per il Paradisi delle Signore 7 giungerà il momento di salutare il suo pubblico dopo una stagione decisamente trionfante dal punto di vista Auditel. Stessa situazione per i soliti ignoti, il game show di grande successo condotto da Amadeus, che quest'anno saluterà il suo affezionatissimo pubblico a metà aprile. Stop per il Paradisi delle Signore 7 Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per la primavera 2023, prevede che si arriverà alla conclusione del Paradisi delle Signore 7. Le ultime puntate di questa fortunatissima stagione saranno trasmesse dall'1 al 5 maggio 2023, dopodiché calerà il sipario sulla settima stagione, di cui sono state già ultimate le riprese. A partire dalla settimana successiva, ossia da lunedì 8 maggio, la fascia oraria che va dalle 16 alle 17 e tornerà nelle mani di sei sorelle, la soap opera spagnola che lo scorso anno ha appassionato una media di oltre un milione di fedelissimi in daytime e proseguirà anche questa volta per tutta la stagione estiva. Le nuove puntate di Il Paradisi delle Signore 8, infatti, sono previste a partire dal prossimo settembre e per la conseguente stagione televisiva 2023 fratto 2024 in daytime. I soliti ignoti con Amadeus si ferma prima. Novità e cambiamenti anche nella fascia dell'ex esprime time di Rai 1, dove attualmente è in onda l'appuntamento con I soliti ignoti, il game show di grande successo condotto da Amadeus. Quest'anno, la messa in onda del game proseguirà fino al 15 aprile, dopodiché da domenica a 16 aprile ci sarà spazio per il ritorno di Affari tuoi, un altro quiz storico dell'ex esprime time della rete Amiraglia. Alla guida del quiz dei pacchi ci sarà sempre Amadeus che, nella passata stagione televisiva, aveva già testato la versione famiglia di Affari tuoi con delle puntate speciali trasmesse in prime time su Rai 1. Resta con mera doppia per il finale. Per quanto riguarda la prima serata, invece, da segnalare il cambio programmazione per il finale di Resta con me, la nuova serie TV con protagonista Francesco Arca, che ha debuttato con una media di quasi 4 milioni di spettatori in prime time. Le ultime due puntate della prima stagione saranno trasmesse domenica 2 e lunedì 3 aprile 2023, con un raddoppio eccezionale nel prime time della rete Amiraglia.